Un clima disteso tra provincia, samte, comuni e lavoratori del ciclo integrato dei rifiuti nel sannio scandito da incontri e visite del numero 2 della regione e assessore all'ambiente fulvio Bonavitacola, che in più occasioni ha fatto tappa a Benevento per incalzare politiche e tecnici a fare presto per riattivare il ciclo integrato dei rifiuti. A giorni dalla giunta regionale della Campania attese il via libera l'impegno di spesa di 31 milioni di euro per i lavori che prevedono anche nuovi impianti presso il sito di Casalduni. Penso in settimana o l'altra la giunta regionale un po' tenendo questa grande attenzione per la provincia di Benevento delibererà un impegno di spesa di 31 milioni di euro per attivare la linea stirra e noi vogliamo essere sereni, una prospettiva positiva nella misura in cui ognuno dà il meglio di sé. Sito che per ora va svuotato dai rifiuti presenti da oltre 5 anni, quando divampò l'innesimo e distruttivo incendio. La messa in sicurezza, la conclusione dei lavori di Sant'Arcangelo Trimonte dove verranno trasferite praticamente le 11 mila tonnellate dello stir di Casalduni. Ottimismo anche dai sindagati che qualche giorno fa avevano incontrato i vertici della Samte. Lo stir di Casalduni con nome Samte deve essere la parte integrante di questo progetto. L'impiantistica va salvaguardata, quindi va comunque rigenerato e rimesso di nuovo in moto lo stir di Casalduni.